musica 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 è Natale uh cosa si fa in Giappone per un Natale? si lavora musica 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 ciao amore ciao baby il lavoro era tosto però adesso è ora del cenone natalizio ma che si mangia in Giappone per Natale? è ramen musica 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 ho finito e ora? sai di che ci avrei voglia? hai presente? il caminetto, le castagne arrosto il calore del camino quello natalizio ho un'idea lo sai invece cosa piace a me del Natale? una cosa che mi fa tanta atmosfera l'albero musica musica ma sai di che ci avrei voglia adesso? che in Italia si mangia sempre un pezzo di pandoro un pezzo di panettone un po' di torrone qualche dolce tipico ma in Giappone siamo riusciti a trovare niente ehm le prugne lo sai cosa mi manca del Natale? la musica natalizia mi fa così tanto Natale cosa si ascolta in Giappone per Natale? la musica natale però alla fine la cosa più bella del Natale è la famiglia gli amici, i cugini i nonni, gli ziii le tavolate giganti di persone tutti riuniti insieme a mangiare, a festeggiare a scambiarsi regali affetto quella è la parte più bella del Natale noi ti vogliamo bene